ciao a tutti ragazzi bentornati dopo tanto 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 ok tanto basta basta allora vi volevo salutare creduto e poi volevo annunciare una nuovissima serie però non si baserà su minecraft so che a volte voi non piace questa cosa non piacerà questa cosa però ho deciso così di fare io e dei miei amici abbiamo deciso di creare un clan su fortnite e niente no perché sono così deficiente io soltanto le live su minecraft le continuerò a fare non c'è problema soltanto che ogni sera ci saranno le live di fortnite in casa con le minecraft però davanti al giorno oppure questo mercoledì il pomeriggio non lo so ok so come ora questo è forte qui giusto se è forte e niente poi 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 niente dice stront ok l'idea di minecraft è come una bellissima da skyward ok no ciao da dani ha come ti cazzo ti chiami stronti quindi rica capitolando ogni sera quasi ogni sera spero ogni sera diciamo ogni sera ci sarà questa nuova serie e live su minecraft no no ma che sei poi io sono bimbo da uno su fortnite ma tranquilli che minecraft te lo porterò comunque 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 e non c'è nessun problema guarda sto strombolo dai eh c'è brutto strombolo tutti i miei scritti mi seguiranno mi seguono pur tanto per mic'rofone però però il mi piacerà anche farlo o è da prima che canto questa canzone neanche so come si chiama vabbè posso andare anche a disfactor per le ultime leve che ho provato a fare non ho avuto molte visualizzazioni forse ma nasce a te ma nasce a te poi vi dovrò commentare un altro video forse credo spero perchè lo canto mi sento un po' non deficiente nooo adesso ti 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 comunque posso aggiungere anche con voi sulla player fortnite come ho fatto con francesco di bala che abbiamo fatto quello una win ok ok no no non è però lui oh 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 e fu così che nel k notes vince questa skycourse fine fine eh mannaggia a me quando l'ho fatta mi sono fatto un po' di male un male fisico grande blazer che mi hai fatto vincere Gigi che fai e io me ne faccio un altro perchè lo voglio è ok no in verità non lo voglio ciao con il saluto qui ciao quindi ogni sera quel canale live forse anche stasera iscrivetevi lasciate un like cambiate questo video che fa veramente schifo ciao